Ciao professor Broccoli, tu sei un grande, sei un maestro, io ti seguo, hai sempre il sorriso e porti tante belle cose. Io sono il salutatore e ti chiedo un saluto a tutti i tuoi fan che ti seguono. Allora, al salutatore, di assoluto un saluto al salutatore, questa è la cosa migliore. E poi un saluto a tutti quanti coloro i quali hanno la sfortuna o fortuna, fate voi seguire un caro saluto da Umberto Broccoli e dal salutatore. Grazie, e io ho una sorpresa per te, la manina del salutatore ovviamente. Ma che meraviglia, ma che meraviglia. A presto, è un onore, grazie. Ciao, ciao, ciao.